L'accordo che conclude l'avvertenza riguardante lo stabilimento perugina di San Sisto è stato firmato. Lo ha annunciato Nestlé che ha siglato l'intesa con i sindacati presso la sede di Confindustria Umbria. Evitate licenziamenti attraverso un piano sociale di circa 20 milioni di euro, opportunità concreta per ciascuno dei 364 lavoratori coinvolti nella riorganizzazione. Pierugina continuerà a dare lavoro a 613 persone.